La scuola di un'altra scuola di un'altra scuola di un'altra scuola La staccata più lunga si mette il muro, usa la frizione sulle cambiate Ormai un rally finito, vogliamo fare la nostra gara molto pulita e molto tranquilla, per favore 30 secondi Soprattutto questo tratto qua sotto Il primo pezzo Ora ho visto fare la staccata a Peppe, qua sotto l'ha fatta come si fermava per fare la curva Dove? Qua, il tornantone qua sotto Ah sì? Sì, sì, proprio l'ha fatto pianissimo, perché si scivola Sinistra 2, ritarda, l'ultimo piri, chiude e scivola Chiude e scivola Hai visto? Destra piede 50 Sempre sulla destra, stacca, tornando a destra 2, fine Masso Che ti avevo detto? Che ti avevo detto, Tommaso? Porco Dio, che ti avevo detto? Accendi, accendi! Che accendo, sto zorbo accendo Che minghi accendo, sta minghi accendo Tutte cose a turta Tutte cose a turta Tutte cose a turta